In vista delle prossime festività natalizie, l'amministrazione comunale di Pescara ha previsto alcuni provvedimenti per migliorare la viabilità cittadina. L'assessore comunale Marco Presutti ha illustrato nel dettaglio i provvedimenti assunti. Le cose riguardano soprattutto i parcheggi, nel senso che per favorire la sosta delle persone e quindi favorire anche le attività che si svolgono sotto Natale, perché straordinariamente l'amministrazione comunale ha determinato la gratuità del parcheggio nelle aree di risulta della stazione centrale nelle domeniche di dicembre, dalla prossima, cioè da dopodomani, fino appunto alle domeniche di gennaio. Quindi lì domenica si parcheggerà gratuitamente nell'area di risulta, questo nella speranza di favorire le attività che ci sono nella città e inoltre una delibera molto rilevante, molto civile, con un'altra delibera istituiamo la gratuità per le persone diversamente abili di parcheggiare nelle aree a pagamento della città, posto che ovviamente non ci siano presenti posti disponibili nei parcheggi già riservati e diversamente abili. L'amministrazione comunale, è stato detto, rinuncerà ad incassare circa 20.000 euro con il pagamento della sosta pur di agevolare l'afflusso cittadino per evitare la presenza dei parcheggiatori abusivi. Saranno intensificati i controlli delle aree di risulta da parte degli agenti della Polizia Municipale. Infine, è previsto il ripristino della zona traffico limitato 3 su Via Regina Margherita e Via De Amicis per ridurre l'inquinamento atmosferico. Grazie.